Il nostro regolamento è stato promosso e approvato da tutti i municipi, è stato condiviso e sostenuto dagli artisti di strada e ora è stato promosso dalla commissione competente mentre volevo evidenziare che per quanto sia uguale il regolamento del consigliere Corsetti invece ha ricevuto, mi dispiace per lui, non credo che sia solo questione di sfortuna ma tre bocciature sia da parte degli artisti di strada che dai municipi, dal suo partito anche nella passata consigliatura e anche dall'assemblea capitolina. Questo per ribadire le nette differenze che sono state ricalcate anche dal suo stesso partito. Oggi siamo felici di poter approvare questa delibera e crediamo che alle forme artistiche di strada debbano rispondere con altri regolamenti, con altri strumenti. Infatti volevo informare con l'occasione la consigliera Celli che non fa parte della commissione cultura quindi sicuramente per questo le sarà sfuggito che la commissione cultura sta portando avanti anche il regolamento degli artisti di strada che proprio darà risposta in questo senso alle altre forme artistiche a cappello però come diceva l'assessore che hanno un riscontro direttamente commerciale. Altra questione, sempre da quello che è emerso anche che proponeva la consigliera Celli, insomma qui si dà spazio alle nuove forme artistiche all'innovazione e ai giovani artisti, anzi cogliamo l'occasione per invitare i giovani studenti insomma a partecipare all'iscrizione di questo albo e alle nuove scuole d'arte, ai nuovi artisti di presentarsi insomma perché può essere anche per loro una risorsa che la città vuole dare per creare nuove opportunità lavorative e di spazi di incontro culturale. Per questo insomma noi voteremo a favore. Grazie Presidente, grazie a tutti quanti.